A Crema potrebbe slittare la ristrutturazione del ponte di via Cadorna per via della recente apertura da parte dell'amministrazione a confrontarsi con la minoranza circa le modalità dei lavori, che comunque restano in programma. L'opposizione ha raccolto favorevolmente la decisione del sindaco e si dice pronta a dialogare e collaborare sulla definizione del progetto. L'annuncio della chiusura del ponte aveva destato molte preoccupazioni nei cittadini che ora attendono gli sviluppi della vicenda. Io di fronte a questa apertura mi sono detto assolutamente disponibile e sarebbe stato deleterio non rendersi disponibile perché l'interesse primario è la città e l'interesse dei suoi cittadini e non certamente né il mio né quello del sindaco. Mi auguro che il fatto di trovarci evidentemente in conferenza di capigruppo e più avanti forse in commissione si metta nella condizione però di un confronto serio e che non sia semplicemente casomai la ratifica di una cosa che mettono sul tavolo come se fosse una scelta di parte. Noi siamo disposti a dare il massimo del contributo possibile e a prestare certamente attenzione perché i danni che si rischia di arrecare a una popolazione abbastanza vasta con la chiusura del ponte senza un'alternativa evidentemente sarebbe la cosa peggiore che possa capitare alla città. Io sono fermo ancora salvo dimostrarmi il contrario a un ponte alternativo di cui si era già parlato un ponte alternativo provvisorio in questo caso in attesa che poi venga evidentemente messo a norma e sistemato l'attuale ponte. Io non riesco a vedere grandi alternative tranne che mi venga dimostrato esattamente il contrario e che si possano avere soluzioni migliori ma io dentro la mia testa in questo momento reputo difficile trovare un'alternativa a un ponte provvisorio.